Gli dico in faccia che sono delle bambine fottute, che vogliono cercare un papà che le assista e che vadano a fanculo, perché i papà che le assistono non ci stanno. La conferenza di questa sera è interessata a un argomento che io ho esposto in un libro scritto in Mondadori tanto tempo fa, che è intitolato Come farlo innamorare, quindi dedicato alle donne, anzi sottotitolo osceno un metodo scientifico. Il problema è questo, le donne hanno bisogno di farlo innamorare, perché devono essere amate. Ma questa è una condizione infantile, il dover essere amati. L'adulto vuole godersi la vita e quindi godersi le persone. L'amore è una caratteristica tipica della femmina che partorisce e assiste i cuccioli. Li nutre allattandoli e li protegge. Questo è il sustrato naturale di quello che noi chiamiamo amore. In realtà l'amore altro non è che è la sublimazione mentale delle cure parentali.